Continua la preparazione della nuova Aquila Palermo in vista della prossima gara in programma domenica 1 dicembre alle 19 al Palamangano contro la Vis Reggio Calabria. Andiamo a sentire le parole di Marcello Cozzoli, guardia classe 1990 della nuova Aquila Palermo che con i suoi 26 punti ha deciso la partita e la vittoria contro la nuova Palacanestro Marsali. Sono contento di me stessa e della squadra, come fai a non essere contento quando fai 27 punti? E niente, mi trovo molto bene con i ragazzi e lo dimostro in campo, ovviamente, il coach ha fiducio in me e penso e spero che la stia ripagando. Ovviamente con questo organico, con questi risultati, come si fa a non pensare a una promozione? I numeri ce li abbiamo tutti e lo stiamo dimostrando, dobbiamo solo continuare come stiamo facendo adesso perché sta andando molto bene. Sinceramente non sarà una partita facile, non conosco molto bene gli avversari quindi non posso esprimere più di tanto, però noi stiamo preparando la partita come le abbiamo preparate tutte le precedenti ossia nel modo giusto, anche in allenamento siamo preparati, siamo pronti, con il corso apriamo molto bene e quindi speriamo bene, noi saremo pronti.